Diamo inizio ai lavori. Un benvenuto a tutti, partecipazione numerosa che credo sia un titolo di merito del professor Archetti, al quale vanno sentiti ringraziamenti per l'organizzazione di questo pomeriggio. Il professor Archetti, che è il curatore anche degli atti che rappresentano un po' la conclusione di quel convegno che si svolse a Brescia dall'1 al 6 dicembre del 2014 e che al tempo stesso con questa iniziativa conclude anche il progetto ideato per Expo 2015 sulla civiltà del pane, storia, cultura, tecnologie produttive, consumi. Avremo modo di riflettere con i relatori che si alterneranno poi a questa tavola rotonda sul significato di questi atti che si presentano corposi, tre volumi, e il cui merito va al professor Archetti sia perché ha organizzato il convegno, sia perché è il curatore anche dell'opera. Prego adesso il professor Duccio Balestracci di prendere la parola. Il professor Balestracci è professore ordinario di storia medievale presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei beni culturali di Siena. Ha lavorato sulla storia delle classi subalterne, dell'alfabetizzazione, della guerra, del confronto fra culture. Ha analizzato temi di storia della città, delle sue istituzioni e delle rappresentazioni mentali. Ha studiato aspetti dell'utilizzo e del governo delle acque in età preindustriale. Il suo ultimo volume, edito da Il Mulino nel 2015, si intitola Medioevo e Risorgimento l'invenzione dell'identità italiana nell'Ottocento. Professore, prego. Grazie. È un piacere, sono io che ringrazio chi mi ha invitato qui, prima di tutto l'amico Archetti e l'amica Francesca Stroppama. È un piacere perché parlare di questo lavoro, dico subito un'opera che si presenta in aspetti abbastanza dissuasori, tre bei volumoni robusti, che danno il senso e che rendono giustizia, direi, sia al convegno organizzato nel 2014, di cui costituiscono gli atti, sia ancora di più del grosso, coraggioso, temerario, ma d'altra parte senza la temerarietà e l'incoscienza non si va da nessuna parte e si vola bassi soltanto con la paura e il buonsenso, temerario di chi ha messo in piedi un progetto pluriennale su un tema, il tema del pane, che di per sé sgomenterebbe chiunque, a primo acchito. Quello che è venuto fuori è un lavoro, io parlerò, sono un medievista, parlerò soltanto di ciò che mi compete, quindi di cose medievali, che come ben sappiamo vanno dal 476 al 1492 il 12 ottobre, non si sta bene l'ora perché siamo sull'Atlantico e c'è il problema del fuso orario. Parlo soltanto di questo, ma perdonatemi se vi rubo qualche, solo qualche minuto, qualche attimo, per sottolineare un fatto, che questi tre grossi volumi meritano di essere letti tutti dal primo all'ultimo, indipendentemente dalle discipline, dagli interessi, da ciò di cui ognuno di noi è specialista. Perché? Perché sono espressione di un bellissimo lavoro in cui si coniugano la diacronia e l'interdisciplinarietà. Ora, il professor Anelli prima diceva una cosa molto giusta, che la interdisciplinarietà bisogna applicarla e saperla applicare. E questi lavori, questi tre volumi direi che ci sono riusciti in maniera egregia. Si è utilizzata, si è convocata la storia dell'economia, la storia della mentalità, della cultura materiale, dell'agricoltura, dell'alimentazione, delle istituzioni. Si sono visti i rebound artistici e letterari e tutte queste discipline in questo lavoro si intersecano, non restano a compartimenti stagno, ognuna per conto suo. Si intersecano, si convocano, si interpellano. E ecco perché ho detto che questo lavoro va letto dalla prima pagina all'ultima, anche se è tanta roba. D'altra parte anche la recherche de Proust, non è esattamente un libriccino smilzo. Creano, con le loro intersezioni, con le contaminazioni metodologiche ed epistemologiche che presentano, creano una serie di ripartenze. Ovvero fanno quello che una ricerca ben fatta e un lavoro ben fatto deve fare. Mettere un punto, ma che non è un punto fermo, è un punto da cui si riparte con la ricerca e con le curiosità e con gli interessi. Non vorrei sembrare enfatico o retorico, ma il lavoro di cui stiamo parlando stasera è, al mio parere, sostanzialmente una storia di struttura di strutture, perché più di più di una si sta parlando. Bene, resto nel mio ambito di media vista e, da questo punto di vista, vorrei dire che i lavori di cui parliamo sono lavori che, come dire, rimettono in discussione tutta una serie di quasi appurate punti fermi. Ripuliscono il campo da tutta una serie di stereotipi. Ci costringono, tutti noi medievisti, a rivedere, a riprendere in mano tutta una serie di cose. Banalmente, e per spiegarmi con degli esempi concreti, quando si parla della tipologia del pane nel Medioevo, tutti probabilmente, o molti probabilmente, certamente i nostri studenti, ma credo anche la persona colta, non specialista, immagina che, parlando del pane medievale, si deve parlare ovviamente di un pane di mescolo, non necessariamente del pane bianco che conosciamo. Ovviamente in molti possiamo essere portati a credere che ci sia, come dire, una categorizzazione di classe o di ceto. I più poveri mangiano il pane nero, il pane di mescolo peggiore, i più ricchi mangiano il pane bianco. Sì, certo, questo è vero, indubbiamente, nessuno lo nega, ma gli studi che sono presenti in questi volumi ci fanno capire che l'uso del mescolo o del bianco è molto più trasversale di quanto non immaginiamo. È molto più trasversale perché dipende non soltanto dal inevitabile elemento di ceto e di classe e di status e di ricchezza, su questo non c'è dubbio, è chiaro, ma non soltanto questo perché dipende anche da occasioni, costumi, mentalità. E allora con qualche sorpresa ci troviamo a vedere classi subalterne che, come dire, utilizzano anche un pane di buon livello o classi economicamente non povere che utilizzano tranquillamente in certe occasioni il pane di mescolo. Dobbiamo ripulirci la testa da categorizzazioni, che sono categorizzazioni di comodo, che servono, ci mancherebbe altro, le categorizzazioni di comodo servono per partire, servono come modelli, ma come dico sempre ai miei studenti, una volta che abbiamo elaborato il modello, verifichiamo su quel modello e poi buttiamo via il modello, perché se no il modello diventa un totem, un feticcio, un'icona e non ce ne liberiamo più e non facciamo più ricerca storica, facciamo altre cose. I mescoli per i quali questi studi ci fanno capire anche le gerarchie, la costruzione delle gerarchie dei mescoli utilizzati, l'avena al primo posto, un po' meno l'orzo, il miglio, la segale, il farro, con tutta una serie di altri cereali residuali che ci interpellano, ci costringono a chiederci. Quando si dice pane di mescolo, ovviamente, sì, l'idea generale è molto chiara, ma scorrendo questi saggi ci rendiamo conto che la tipologia dei panni di mescolo è enorme e bisogna capire, momento per momento, situazione per situazione, caso per caso, regione per regione, contingenza per contingenza, che tipo di mescolo è, perché altrimenti rischiamo di parlare di un fantasma, rischiamo di parlare del nulla, rischiamo di parlare di qualche cosa che ci siamo inventati nel cervello, ma che non è esistito nella realtà. E da questo punto di vista, appunto, capire come il pane si è creato, si è sviluppato, il tipo di pane che è stato fatto, significa entrare a contatto con la storia delle classi sociali, delle contingenze, delle epoche. Da questo tipo di riflessioni, sono partito dalla tipologia del pane dei mescoli, perché è una di quelle riflessioni che nel libro ci porta quasi per default a tutta una serie di altre domande, di altre rimesse in discussione, una molto semplice. Io sono rimasto personalmente molto colpito dal saggio che parla delle rotazioni in Estremadura, per intendersi, perché ho trovato in questo saggio, presente in questo volume, una cosa che l'avevano già detta altri, però che non è mica tanto entrata nel cervello anche di chi scrive storia. Le rotazioni. Le rotazioni in Estremadura si legge che sono estremamente variabili, sono triennali, a volte sono quadriennali. Quando l'ho letto, mi si è riacceso immediatamente un faro nella testa. Ma questo è Tubert. Quando Tubert dice, attenzione, questa storia, la rotazione biennale, triennale, è una idea, è uno stereotipo. Io mi sfogo di dirlo ai miei studenti, ma poi i miei studenti leggono degli eccellenti manuali, eccellenti, scritti da serissime persone, da serissimi storici, in cui si parla. La rotazione biennale, poi si passa a quella triennale. Ma quando Tubert dice, c'è uno spontaneismo agrario per cui il contadino sa per conto suo cosa deve fare e che tipo di rotazione deve fare. La prova provata è esattamente questa. Si riaprono dei cantieri, che sono soprattutto cantieri che sono collegati, in questo caso, necessariamente ad una materia che sembra un po' fuori moda. La storia dell'agricoltura. Una materia che ha avuto un grande sviluppo in altri momenti e che in questo momento sembra quasi una materia di nicchia. Sembra quasi una materia residuale. La storia dell'agricoltura è invece un elemento che viene interpellato con forza da studi come questo. E l'altro default che questo si porta dietro è la storia della mollitura. Un altro cantiere che si riapre. Tempi, ritardi, sincronie, distonie delle tecniche. Il mulino a vento che in Oriente arriva due secoli dopo rispetto all'Occidente. Permanenze, contemporaneità, non più una lettura sociale e conflittuale, ma una lettura articolata, estremamente flessibile, che faccia capire quello che succede nella storia della mollitura e, in questo caso, anche dei rapporti istituzionali che si creano tra i detentori del potere e le altre classi. Così come si portano dietro questi studi, rinunce, per fortuna, a certi funzionalismi che ci siamo messi nel capo. L'idea che la ruota verticale sia un qualche cosa di tecnicamente più valido della ruota orizzontale o che sia applicabile soltanto in certe particolari condizioni idrogeologiche. Non è così, non è così. È una storia che non tollera categorizzazioni, questa. La storia del pane è tutto quello che la storia del pane si porta dietro. La storia della mollitura, la storia dello stoccaggio che convoca con forza la storia della cultura materiale, l'archeologia post-classica, perché si intrecciano tutte queste storie con quella che è la storia dei rapporti all'interno della comunità. Fosse piccole anaerobiche, fosse grandi areate. Benissimo, è tutto chiaro, le fosse piccole sono dei ceti subalterni, quelle grandi areate sono dei detentori del potere. Non è assolutamente vero così. Leggiamo questi saggi e ci rendiamo conto perfettamente che c'è un'articolazione molto ampia che non tollera queste categorizzazioni così con il paraocchi perché non c'è un collegamento così stretto, così dogmatico fra la storia dei rapporti sociali e la storia delle tecniche e proprio delle tecniche legate al pane e legate allo stoccaggio del pane. Un tema per il quale si convoca la lunga durata. Le fosse foderate arrivano fino al ventesimo secolo. Quante di queste tecniche hanno una durata lunga? E certo all'interno di tutto questo il governo del pane porta chiaramente a studiare la storia delle istituzioni e tutta una serie di altri elementi nei quali non mi addentro, anche perché non voglio prendere troppo tempo, l'aspetto del simbolismo religioso, non c'è dubbio che sia una cosa di grandissima importanza che deve essere studiata, l'aspetto della raffigurazione. Si sente dietro le raffigurazioni del pane il tumulto delle passioni, il tumulto delle controversie religiose, le analisi che vengono fatte in questo volume, delle rappresentazioni dell'ultima cena, sono una cosa formidabile, veramente sono formidabili. Siamo tutti quanti legati a quella immagine bella, serena, pacata, dolente dell'ultima cena del cenacolo di Leonardo da Vinci. Beh, ci sono raffigurazioni dell'ultima cena in cui i protagonisti sono il pane e il vino, scene tumultuose, tumultuose, esasperate, Tiziano, Veronese, Jacopo Palma il Giovane, Tintoretto e così via, ma che cosa c'è dietro tutto questo? Non c'è soltanto un problema dell'estetica della pittura, c'è dietro il tumulto delle passioni di un dibattito sul pane, sull'eucarestia che dà dietro al concilio tridentino, c'è dietro un mondo, c'è dietro un mondo religioso, un mondo culturale, il pane, la politica e le raffigurazioni. Le raffigurazioni del pane come elemento della serenità e del governo del potere che si prende cura delle popolazioni. E il pane infine che ha un simbolismo, un simbolismo di per sé. Fra le immagini che sono corse dei film ce ne poteva essere una di un film che sto citando a memoria, se sbaglio me lo direte, mi sembra che fosse Good Morning Babilonia, dei fratelli italiani, in cui il padre di famiglia, un possente, Omero Antonutti, mentre sta per tagliare il pane, cede al figlio maggiore che ormai si è emancipato e diventato il capofamiglia, l'onore di tagliare il pane. La storia del pane, la storia delle comparazioni dell'uso del pane che viene fatta in questo lavoro, soprattutto per quello che ci riguarda la comparazione con la cultura ebraica, con la cultura arabica, ci porta a, islamica, ci porta a capire la civiltà, non soltanto la civiltà del pane, ma la civiltà tukurre. È stato convocato prima, nella citazione del Presidente Capello, la figura di Polifemo, la figura di Polifemo che è la negazione della civiltà cerealicola delle culture mediterranee. È quello che non mangia il pane, come dire, è quello che è ancora legato al crudo, mentre il cotto, e lo abbiamo sentito, è la civiltà, il pane, è la metafora della civiltà del cotto nei confronti del crudo. Vi ringrazio. Grazie professor Balestracci per quanto ci ha detto, per questa dimensione culturale che riguarda la civiltà del pane.